Deve ancora toccare l'ala Orleans OM al pari di Owens Club e di New York New York 200 metri al punto di partenza Si disinteressa dell'ala New York New York Come potremmo dire al logico che fosse Fuori dall'ala anche Libeccio, Griff e OK America Mirtillo Rosso e Owens Club in lotta per il comando Mirtillo resta in vantaggio Mirtillo Rosso al comando, Owens Club in seconda posizione In terza Orleans OM, in quarta McRace SM Poi OK America, Libeccio, Griff e New York New York In piegata Mirtillo Rosso all'avanguardia Mirtillo Rosso avanti a Owens Club, 13 e 5 in lancio Mirtillo Rosso al comando, Owens Club in seconda posizione In terza Orleans OM, in quarta Numare McRace SM Poi OK America, così al comportamento della piegata Con Mirtillo Rosso sempre battistrada Avanti ad Owens Club Mirtillo Rosso al comando, quarto iniziale in 32 La media di 1,15 e 5, progredisce ora Libeccio, Griff Mirtillo Rosso avanti ad Owens Club Poi Libeccio, Griff sul quale provava un anticipo Da Grace SM, continua Libeccio Che ora trova l'anticipo di Owens Club 43 netti per il 600 In tre su una linea L'attacco della seconda e penultima piegata Con Mirtillo Rosso avanti ad Owens Club Lungo la corda sempre Orleans OM Poi in fuori sempre Libeccio, Griff Con all'interno McRace SM Quindi in linea New York, New York e OK America 28 e 9 il secondo partiale 13 e 9 la media per i primi 8 Sbaglia Owens Club Di Galoppo il favorito Il giro completato in 13 e 4 Con Mirtillo Rosso al comando Orleans OM in seconda posizione Poi McRace SM lungo la corda New York, New York, poi OK America Si va sulla piegata finale Con McRace al lato di Mirtillo Rosso Lungo la corda sempre Orleans OM Poi in fuori OK America Quindi New York, New York Libeccio, Griff 28 e 3 per il terzo quarto Ingresso in dirittura Mirtillo Rosso avanti a McRace SM Mirtillo Rosso, McRace Poi OK America McRace che attacca e sta passando McRace SM Su Mirtillo Rosso McRace, McRace McRace SM Mirtillo Rosso OK America New York, New York Libeccio Griff E Orleans OM 28 e 1 Il quarto conclusivo 1.55 e 5 Il tempo totale Questo primo locatelli torinese Si chiude alla media Di 1.12 e 2 Un ben rientro Un ben ritrovato McRace SM Che dopo il paglio dei comuni Trova subito in paglio Questo gran premio Locatelli Totalizzatore 4 e 21 Il favorito Owens Club 1 e 63 Di galoppo in prossimità Del completamento Del primo giro Super veloce McRace SM Roberto Andrighetti Lucio Colletti Il team del vincitore Del locatelli 2013 Risolto a media di 1 12 e 2 Il team del vincitore 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 Il team del vincitore